Si è svolto lunedì 16 dicembre presso il ridotto del teatro Le Muse di Ancona il terzo confronto tra regione e partenariato in vista del nuovo programma di sviluppo rurale 2014-2020 delle Marche. All'incontro aperto dall'assessore all'agricoltura Maura Malaspina hanno partecipato Franco Sotte dell'Università Politecnica delle Marche, direttore di Agri Regione Europa, Cristina Martellini dirigente del Servizio Agricoltura, Sabrina Speciale e Lorenzo Bisogni del Servizio Agricoltura. L'ottica è stata quella della massima condivisione dei temi tra operatori, categorie ed istituzioni coinvolte per individuare percorsi condivisi e inserirli a livello strategico nella più ampia visione nazionale ed europea, una modalità molto apprezzata dal pubblico presente. La Malaspina, in apertura dei lavori, ha dichiarato che questo è un momento decisivo per la prossima programmazione, in una fase delicata di concertazione con il Ministero dell'Agricoltura. La Regione parteciperà per questo a breve a un tavolo sia tecnico che politico per la definizione e lo sviluppo del primo pilastro. L'assessore ha inoltre parlato di alcune novità rispetto al vecchio PSR, come le competenze che, diversamente dal passato, rimarranno a livello nazionale. La Malaspina ha aggiunto che resteranno in carico al MIPAF, il settore della rete rurale nazionale, la gestione del rischio in agricoltura, i piani di irrigazione e, per una parte delle regioni, tra cui le Marche, la biodiversità. Rispetto al vecchio piano, inoltre, saranno approntate alcune misure per la manutenzione del suolo e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Durante l'incontro si è discussa una prima strategia, risultante dai seminari, del lavoro svolto con i focus group, in vista della bozza del programma da approvare nel 2014. Franco Sotte, direttore di Agri Regione Marche, ha dichiarato che ci si muove in un panorama di riferimento rappresentato da circa 50 parametri. La discussione per l'adozione della politica agricola coinvolge diversi paesi, le regioni e quindi le Marche. Sotte ha aggiunto che sarà necessario sfuggire in ogni modo il pericolo di una politica agricola comunitaria conservativa e bisognerà far valere con decisione le specifiche esigenze marchigiane a livello nazionale rispetto anche alle altre regioni. Sotte ha concluso richiamando la necessità di tutelare a livello europeo il sistema e le produzioni di qualità marchigiane, così da mantenere le quote di mercato in un panorama difficile e di grande concorrenza. Tutti argomenti di forte interesse che sono stati poi intrecciati ai risultati del percorso di ascolto del partenariato e illustrati da Sabrina Speciale attraverso una top ten divisa per assi dei fabbisogni emersi nelle interviste. La Speciale, evidenziato come la ricerca, sia stata anche un'ottima occasione per incentivare il confronto fra mondi che normalmente non comunicano. Quella del dialogo, secondo il punto di vista della Speciale, è stata una sorpresa positiva e per nulla scontata. La funzionaria della regione ha infine ribadito l'importanza della programmazione dal basso e di lavorare uniti per essere più forti. L'intervento di Lorenzo Bisogni ha chiuso la prima parte dell'incontro con l'analisi di contesto in cui opera il piano di sviluppo rurale. Bisogni ha illustrato le interconnessioni tra obiettivi tematici, le sei priorità dello sviluppo rurale e l'erogazione dei fondi, così come le azioni comuni a tutte le priorità e le novità emerse per ognuno dei focus. Al termine, la dirigente del Servizio Agricoltura Martellini, insieme ai relatori, ha aperto il dibattito con gli intervenuti al seminario. Secondo i rappresentanti della regione, la raccolta degli interessanti spunti emersi indirizzerà l'intervento istituzionale, mentre il capitale di osservazioni ed esperienze portati dagli operatori in questi anni, sarà importante per un sostegno sempre più efficace alle aziende agricole marchigiane e per la realizzazione di un adeguato programma di politica agricola.